La difesa meno perforata dei campionati professionistici, un eccellente ottavo posto solitario in classifica nel girone C ed una salvezza diretta in Lega Pro che è ormai dietro l'angolo. Ha tanti motivi per essere soddisfatto Luca D'Angelo della sua fidelisandria. Il tecnico dei Biancazzurri, in ogni caso, preferisce, alla vigilia della sfida casalinga contro la Juve Stabia, mettere da parte i record e i numeri. Chiede ai suoi di concentrarsi unicamente sulla partita contro le Vespe Campani, in programma domani pomeriggio al Degli Ulivi, a partire dalle ore 15. Noi dobbiamo pensare a giocare la partita senza stare a vedere quello che potrebbe essere poi il risultato finale a livello di classifica. Secondo me non dobbiamo andare con quell'idea in campo, ma dobbiamo giocare con cattiveria e grande agonismo innanzitutto, perché è la base di ogni partita di calcio. E poi cercare di fare punti, perché ovviamente la salvezza è ancora da raggiungere. Fidelisandria contro Juve Stabia, dunque, da una parte una squadra, quella pugliese, che è ad un passo da raggiungimento dell'obiettivo stagionale fissato la scorsa estate dalla dirigenza. Dall'altra, invece, una società, quella campana, partita con ben altre ambizioni e che invece si ritrova a sei giornate dal termine della stagione regolare, a battagliare per ottenere la conferma della categoria, senza passare dai play-out. La Juve Stabia, classifica a parte, resta un avversario insidioso da affrontare. La Juve Stabia è una squadra forte, che ha giocatori importanti, molto esperti per la categoria, è partita male, poi ha cambiato allenatore, è risalita in classifica, però probabilmente all'inizio della stagione avevano altri obiettivi, anche quelli di lottare per posizioni importanti. Perciò sarà sicuramente una partita difficile, anche perché adesso servono punte tutte le squadre. Capitolo formazione, possibile una maglia da titolare dal primo minuto per Grandolfo, tornato al gol sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Melfi. Due, invece, le assenze certe per la Fidelis. Abbiamo tutti a disposizione, mancano solo Ferrero e Piccini, perciò gli altri sono tutti pronti per giocare dall'inizio della partita. Questa mattina, infine, presso lo Stadio degli Ulivi, è stato presentato ufficialmente Umberto Quistelli, il nuovo collaboratore dell'area tecnica della Fidelis Andria. Grazie. Grazie.